Visto che stiamo praticamente al 29 di dicembre, volevo vestirmi pesante per giocare e dare la sensazione del freddo ma sinceramente fa un caldo esagerato e quindi stiamo ancora a mezze maniche Siamo sempre qui su FIFA 20, non 19, cari allenatore, cronotone Dobbiamo affrontare il Cosenza, dobbiamo darci dentro perché dobbiamo recuperare un po' di posizione non perché stiamo indietro con i punti, ma perché comunque stiamo sempre lì però si stanno accalcando un po' troppe squadre, la situazione mi sta leggerissimamente preoccupando e tra l'altro poi dopo inizia anche il mercato e dobbiamo gestare un po' di cose per cui iniziamo bene con una bella partita contro Cosenza, magari vinciamo, magari segna video e ci sale anche come capo cannoniere No no, nessuna battaglia, nessuna battaglia, dobbiamo vincere facilmente e basta iniziamo queste battaglie che poi ogni volta le perdiamo sempre Vai Manni, vai Sì, mannaccia Bravo Manni, mamma che aggancio Eh sì, solo quello c'è bene Manni Hai fatto un aggancio spettacolare Allora Manni ma mi stai diventando un po' troppo difensivo O sbaglio? E basta con sti falli, mi state beccando tutti sti calci Difendono Difendono Aia In velocità Ok Mamma mia ma perché? È fuori gioco Fuori gioco, fuori gioco Vai, 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 vai Ma come si fa a schiacciare così? Dai ma Ma Eh, è quasi un gol Ma che tiro dai È debole Ci sta mettendo difficoltà Vai Barbut E fallo E andiamo È bastata giusto Un'incursione di Barbut Ma che si stanno prendendo ammazzate Barbut E che facciamo? Ci riguardiamo? Allora raga Ma perché? Barbut mi sta andando un po' troppo avanti Sì mi se ne è perso tremendamente Ok Allarga subito giù Vai Hai azzanellato Vai Barbut Vai Barbut Vai Barbut E vai Barbut E vai Aspetta Ah Mannaccia No Era gol Era gol Attenzione Ok No È fuori gioco È fuori gioco È fuori gioco È delle bestie Vabbè Comunque l'importante era vincere Abbiamo vinto Giochicchiando Praticamente Che non è che abbiamo giocato alla grande Però vabbè dai non fa niente L'importante era portare i tre punti a casa L'abbiamo fatto Così almeno riusciamo Tra l'altro poi non abbiamo anche subito un gol Allora Fuori casa Fuori casa Stimisano Seguito al suo ottimo periodo di forma Ma sul serio Deve continuare così Ma giusto per non fargli scendere il morale Perché effettivamente Siete riuscito a vincere un match Combattuto Grazie a un gol Nella ripresa Cosa ha fatto la differenza oggi Secondo lei È la fortuna Avete segnalato il gol Guarda Dobbiamo pensare alla prossima partita Che è quella La cosa più importante Come sento L'avere praticamente Condannato la squadra Cosenza Alla retrocessione Con questo risultato Ma sul serio Quindi abbiamo giocato con una squadra Che dovrebbe retrocedere Mi fa molto piacere Giochiamo per vincere Che facciamo Beneficenza Ma anche no Fatta parola nazionale No Ho reso conto mensile Squadra Ok Aggiornamento mensile Ok Vediamo un po' Ho reso conto Noi avevamo Ah Su Eulogio De Menses E' un 61 Potenziale 82 94 E' Questo Lo stiamo portando Abbastanza bene C'ha 17 anni Secondo me Lo possiamo far crescere Io lo porterei In prima squadra E' a sterno sinistro Allora Uno che mi interesserebbe Sicuramente prendere Potrebbe essere Sottil Che tra l'altro E' alla sinistra E secondo me E' anche Molto molto forte Può diventare molto forte Ma io penso Per acquistare Ci fanno una risata in faccia Io Sì ma che gli offriamo 600 C'ha 20 anni Che io offro 600 Cioè non penso Che possiamo Beccare qualcosa Allora Noi qualche offerta L'abbiamo ricevuta Tipo per esempio Nalini Che Tra l'altro C'ha pure 29 anni Quindi magari Qualcuno Lo potremmo anche Riuscire a vendere Io direi Andiamo un attimo avanti Vediamo se ci arriva Qualche offerta Di qualche giocatore E poi magari Facciamo qualche rush Finale Nella speranza Ok Offerta per il trasferimento Alla squadra Se siete interessata Alex Kordaz Tema arriva C'è praticamente L'unico Su cui possiamo contare Mi rendo conto Che praticamente C'è 400 Settano Allora Facciamo così Ah due offerte C'è addirittura 7,20 Noi abbiamo rifiato 7,20 Allora Io faccio così Guarda Facciamo tratta Vediamo se Non riusciamo A vendere a tanto Perché Kordaz Obiettivamente Non è che non Mi interessa Però Siamo rispiti A fine Ma no Allora Rinegozia l'offerta Assolutamente Facciamo 2,4 Io mi rendo conto Che no Ok Vabbè ma tanto Non te lo avremmo dato Per poco Non te lo damo Accorda Per esempio Potremmo mettere Questa Aggiungere la lista Di trasferimenti Che comunque È un terzino destro Che Noi non facciamo Praticamente giocare Potrebbe fruttarci Parecchio No Nel Menses no Io ho anche Un Milic Proverei a venderlo Perché avete visto L'abbiamo fatto giocare Veramente pochissimo E tra l'altro C'ha pure 30 anni Quindi è anche Abbastanza Vecchio Forma buona Aggiungere la lista Trasferimenti Vediamo se lo riusciamo A vendere E poi basta Anche se Comunque Nel centro campo C'abbiamo un sacco Di gente Crociata Crociata La potremmo dare Aggiungere la lista Prestiti Magari riusciamo A dare in prestito C'ha 17 anni E lo facciamo Un pacchettino Crescere Mustacchio Nalini Magari ce lo possiamo Vendere E lo aggiungiamo A lista Di trasferimenti Aspetta Poi c'è Vedi offerte Ci hanno fatto Delle offerte E no Ma non possiamo Fare più niente Quindi L'abbiamo aggiunto La lista Sì L'abbiamo aggiunto Comunque Siamo Terzi Giochiamo Con Il Livorno Fatemi vedere Se Ultimi acquisti Ok Video Un po' Risalito Il Livorno Non dovrebbe Essere Complicato No La neve Porca Paletta Dai 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 Bellissimo C'è stato un attimo Di concentrazione Non ho parlato Perché Avevo paura Di svegliare Tanti No Mamma mia Vai barbutto Vai Guarda che barbutto Che ti do Ecco qua Eh io sapevo Quanto avevo Dato la palla Barbutto Scatenato Che forse Mi Mamma mia Mamma mia Eh vabbè Eh ho sbagliato Hai ragione Zanella Che ti inchiazzi Te l'hai dovuto dare In profondità Te l'ho data Te l'ho data male Ok Esci No Rigore Destra Vabbè È normale Raga Qualcuno che si viene Appia la palla Bellissimo Sinceramente Pensavo che fosse fuori Comunque Chi è che ha tirato Crociata Se non mi sbaglio Vero No ti cambiamo subito Crociata Ma pure lui Si fa il salto Nella bandina Bravo Crociata Bravo È buona È buona Vai Vai Barbuto E andiamo Lo so Lo scopo Lo scopo Facciamo a fare una partita Senza soffrire No eh Non mi fate queste cose Che mi fate impressionare No Bellissimo Bella azione Benali credo Quindi quelli che dovevano giocare hanno giocato Magari speriamo di avere Qualche offerta Per riuscire a vendere a qualcuno Ah intervista, ma voglio vedere che cosa diciamo Perché penso che forse ci siamo presi la testa della classifica No, ma penso proprio di sì E che chiave Io non credo che a questo punto Dovremmo essere scesi Ma penso proprio di no Allora, ci aspettiamo un match più grado Anche lei ha lo stesso avviso Ma certo, sicuramente No Sfide Che è sfide? Non abbiamo metto senza troppa fatica Dovremmo essere le vostre aspettative Dessi confronti Si era visto Dall'inizio Che oggi Spavaldi quindi Vi siete presi la limicia Sulla squadra di Livorno Cosa è cambiato rispetto all'ultima partita? Ci abbiamo messo più grinta Ultima domanda Allora, aggiornamento Votazione Vediamo un pochettino Qua poi ci dedichiamo Anche alla crescita Divigenza Cortone Non stiamo seguendo i piani Come avete discusso Dove l'obiettivo Far crescere il club sotto il profilo economico Passate al traguardo importante Ma veramente Qual è questo obiettivo Che poi non abbiamo visto? Aumenta il valore del tuo club Del 50% Entro due stagioni Eh vabbè Ce l'abbiamo Fondi attuali Temo della stagione Risparmiando 3000 Tanto vinciamo Ripichiamo questi soldi Mamma come sono Attaccati questi C'è sempre a pensare Non ce la fai Non ce la fai Allora Dovremmo praticamente Cercare di Tra quelli che abbiamo Segnalato Se riusciamo Per esempio A prenderci qualcuno Allora C'era questo Florentino Che sicuramente Non mi stacerebbe Perché è un centrocampista Difensore centrale Centrocampista E potrebbe fare a casa nostra Perché Con Benali Si potrebbe anche alternare Però per acquistare Secondo me Contatta per il prestito In che momento Che sono accettato Il prestito Puoi tentare di acquistare A titolo definitivo Contattiamo Ma tanto non ce lo danno Sicuramente Il problema è che Non ci abbiamo soldi Questo è poi sempre Uno che mi poteva interessare Facciamo così Ci giochiamo Praticamente Uno scambio Ti diamo un bel terzino Rutten Che ne dici Oh Sì vabbè Ma queste cose Non le capirò mai C'è offerta Per il cartello Quanto vale questo? Cioè questo vale 50 milioni C'è C'è il nostro No Controfferta Avanti L'offerta Sì appunto Praticamente Gli possiamo dare Gli do tutto Ma non gli voglio dare tutto Cioè gli do Gli diamo 600 Va bene Avanziamo Vediamo se ci fanno Una risata in faccia E appunto Cioè questo vale 20 milioni Sto Florentino Che vi devo dire Tra l'altro Abbiamo anche la faccia Abbastanza scontata Vabbè Era praticamente Scontata Saremmo riusciti A prenderlo Allora Sportiello Eh ma Sportiello Non posso pegliarlo In prestito Ma neanche questo Neanche Sottil Allora C'è Ranieri Che è un difensore centrale E anche un terzino Me l'avete consigliato E secondo me Non è male Perché Se difensore centrale Terzino sinistro Potrebbe spingere Vediamo se lo riusciamo Ad acquistare Perché non credo Che giochi Cioè Poi magari Mi sbaglio Nella Fiorentina Eh Vediamo se riusciamo A fare sempre Il solito scambio Con Marco Rutte Ah A meno che Non è un giocatore Che faccia a casa nostra Chi state cercando Ah la terzino Difensore Vabbè Perché giustamente Rutten È un attaccante È un attaccante TD Significa attaccante Non significa terzino destro Vabbè Fa niente Offri un altro ruolo Offri un altro ruolo Difensore centrale Chi ti possiamo dare Ah No Che gigliotti C'era un altro Ah Quella era imprese Io tre ne tengo Difensore centrale Non tre ne posso dare Ali Ah Nalini Nalini Aspetta Nalini Anche Ranieri Solo dietro L'aggiunta Di un conguaglio Di 67.500 Sti pezzenti No Io la controfferta Te la faccio Perché siete dei miserabili Te ne do 47 Va bene 47.000 Accettiamo Ma Però Ranieri È giovane È Un difensore Terzino C'è Difensore Terzino Quindi vuol dire Che se noi Gioca anche là Oh quindi Ranieri Non è male Noi ci dobbiamo accordare Con Il cash Se noi abbiamo fatto Un buon affare Tra l'altro È anche giovane Quindi essendo giovane Gli farei un bel Contrattino Sostenuto Tipo No È importante È importante È importante Ti facciamo giocare Magnifico Ok Magnifico Quattro anni Benissimo Quattro anni Accettiamo Non mi sparare È una cifra folle Che ti Che ti do Il car Ah sì Ok Dente causa Che ti butto Il timbro in faccia Quindi Attenzione Aia Quanto gli diamo A questo Io ho sempre Il terreno Di perdere Il giocatore Quattromila Diciamo Cinquemila Se noi Assai Ti sembra Un'offerta equa Gli abbiamo Dato assai Però lo teniamo Quattro anni Questo lo facciamo Crescere E lo possiamo Far diventare Abbastanza forte Non si fa male Incrociamo le dita Offerta per che cosa Aspetta Aspetta Offerta per il trasferimento Zitto 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 Nalini Nalini Non abbiamo Dato No 810 Vogliamo trattare Per Nalini Alla sinistra Tanto A sinistra Ce la stiamo A posto Allora Rifiuta Trattiamo Dai Nalini Vediamo se riusciamo A tirargli Qualche Spuccioletto In più Allora Vogliamo acquistare Nalini Per 810 Lo sappiamo Rinnegoziamo L'offerta Quanto gli chiediamo Io gli chiederei Un milione E 2 990 Ah Kawasaki Questo è quello Delle motociclette Contro Offerta Rinnegoziamo No Mi devi dare La cifra tonda Un milione Va bene Un milione Tondo Tondo Mi devi dare Va bene Ah ok Quindi abbiamo venduto Nalini A un milione Che ci abbiamo Ultima partita E ultima settimana Di Merchiato Si Facciamoci questa partita E poi vediamo Abbiamo il cittadello Crotone Siamo là Ok Dai vediamo di fare Cifra tonda Dai Così Ci mettiamo a posto Un esatto risultato Ok Io no invece Io voglio solamente vincere Ok Portiere tuo alla grande Barbutto Vai Barbutto Ah Cos'ho sbagliato io No raga Ok Ok È nostra È nostra È nostra Mamma mia Mamma mia Raga Vattene Barbutto Vai Ma Ma perché Me l'ha Da Cioè io L'avevo Prolungata A Barbutto Ma perché Me l'ha Dazzanellato Aspetta Vedi qua Allarga Subito Giù No Ok Non era good No Eh tira Ma perché Dai Ma come si fa a tirare così A Vito A Vito Ok Vai No No Vito Che ti sei mangiato No Eccolo qua Porca paletta Butto vai Lo so che non ce la fai Però ce la devi Fa per forza Barbutto Non ce la fa Non ce la fa Mannaccia Ok Eh L'avevo presa però Oh c'è niente da fare Noi dobbiamo sempre Perdere così Le partite Cioè A vincere mai A perdere sempre Portiere tua No Portiere la puoi prendere Così Dai che era una Palletta facile Abbiamo avuto Un paio d'occasioni Non ce l'hanno avuta Far Far fruttare Stavalla Forza No Eh no No dai Questa è stata Una partita Embrogliata Come al solito Palla in aria Così Vabbè Noi stoppiamo Il mio difensore Mi fa fallo Purtroppo Potevamo fare Tre partite Tre vittorie Niente Non mi sento Neanche di dire Che il difensore Nostro ha giocato male Perché obiettivamente In quelle partite Non è La prestazione Di la niente Se lei Eh Se lei può dare di più Ma sicuramente Vito Non è stato all'altezza Le aspettative Ma non è vero proprio Si è mangiato qualche gol Ma non fa niente Ma nessuno ha il posto assicurato E Vito Ma nessuno ha il posto assicurato Cioè Stai calmo Purtroppo La prova del gol La vittoria Negli ultimi unici Come sempre Noi prendiamo sempre Pura sfortuna Dai È tutto Grazie È tutto Vabbè Vediamo se C'è qualcuno C'è Ha bisogno di Ah Rutten Ha bisogno di giocare più spesso Il mio attuale minutaggio Non fa bene Alla mia carriera Eh Eh Mi dispiace Ma il tuo posto è il rischio Cioè Ti dico l'età Cioè Non è Offerta per il trasformamento Di chi? Andrea Barberis Eh no Lo stiamo anche potenziando Quindi sinceramente Popo Barberis Cioè Ce lo teniamo In 70 C'ha 26 anni Eh Diamoci una calmata Vabbè Ci abbiamo ancora Una settimana Di mercato Budget Sempre Misero Cittadella Che tra l'altro È prima in classifica Quindi abbiamo perso Anche la parte D'advertica Però siamo sempre Le secondi Eh A due punti Quindi stiamo Comunque sempre lì Naturalmente Vi faccio il video Qua serve Il suo Per il commento Un bel piaccio Ci vediamo Se un po' Sì Vai Ciao 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 Ciao